Ciao, io sono Alessandro e sono una delle guide del Parco della Cascata delle Marmore. Qui siamo all'interno dell'area verde e siamo vicino a uno dei lavori idraulici fatti dall'uomo nel corso della storia. È proprio l'opera dell'uomo insieme all'azione della natura che hanno creato una serie di ambienti diversi all'interno del Parco, costituiti da porzioni umide, porzioni boscate e parti dove invece sono presenti delle rupi esposte. L'area della Cascata delle Marmore è una zona protetta, secondo la comunità europea, ed è definita ZSC, zona speciale di conservazione. Questo perché qui vi è un habitat prioritario costituito dall'alleanza del crato Neurion. Questa è un insieme di specie di muschi che possiamo vedere nella parete dietro di me. Questi muschi hanno un ruolo importante in questo ambiente perché concorrono alla costruzione di un particolare tipo di travertino, che è l'acqua di buccia che si trova in quest'area. Questo ed altre viste suggestive sulle acque turbolente vi aspettano qui, al Parco della Cascata delle Marmore. Ci vediamo! Grazie!